Lorenzo Bini, un giovane surfista disabile, ormai da tanti anni, ci ha segnalato un problema che sembra piccolo, invece è grande, specialmente per chi non è vedente. Siamo nella zona di Novoli e dietro a Lorenzo, vedete, ci sono degli scivoli e la pavimentazione per i non vedenti, ma non ci sono le strisce pedonali. Ho fatto due segnalazioni allo 055 e 055 a Firenze, come mi era stato indicato, e poi visto che spesso combatto un po' per cercare di sensibilizzare anche sui posteggi riservati alle persone con disabilità, che spesso vengono occupati da persone che mi danno la scusa, ma sono 5 minuti, ma sono 2 minuti, non pensando che vanno a togliere la libertà di chi di quel posto, c'è un'esigenza estrema, bisogno, se no non scende proprio di macchina, però ancora non si è mosso niente e la mia preoccupazione va verso chi magari passa di qui con un bastone perché non ci vede, sente la segnalazione, attraversa tranquillo e dopo una curva secca come c'è qua dietro, secondo me è una cosa molto pericolosa. Tra l'altro l'ironia vuole che poco distante ci sia invece tutto regolare, un attraversamento con tanto di illuminazione, ma manca la pavimentazione per i non vedenti. Mi sembra un po' assurdo che prima di questo attraversamento ce ne siano altri due, illuminati con le strisce ben visibili, che non hanno però la segnaletica per i non vedenti, quindi mi chiedo io, l'inclusività dove va a finire?